La città di Andria alza la guardia contro la Xilella. Il sindaco, Giovanna Bruno, ha emesso un'ordinanza per evitare che l'infezione metta in pericolo l'economia del territorio. Sono previste multe, fino a 6.000 euro, per chi non rispetta gli obblighi previsti. Francesco Rossi. La Xilella continua a far paura agli agricoltori pugliesi. Negli occhi di tutti sono ben vive le immagini della devastazione dei secolari alberi di olivo del Salento. E se l'infezione dovesse arrivare a colpire il nord barese e il territorio di Andria in particolare, sarebbe una tragedia economica tale da mettere in ginocchio migliaia di famiglie e l'intera sesta provincia pugliese. Per questa ragione il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, è passata alle maniere forti, firmata un'ordinanza che impone a tutti i proprietari e i conduttori di terreni dell'agro di Andria, entro il 10 maggio, di effettuare le lavorazioni di rito necessarie a contrastare la diffusione della Xilella fastidiosa. Il controllo sul territorio regionale e sull'applicazione di queste misure, ricorda il sindaco, è affidato, come ha stabilito la regione Puglia, ai rilievi aerofotogrammetrici e all'ausilio dei carabinieri forestali, con sanzioni da 1.000 a 6.000 euro. L'agro di Andria è classificato come agro indenne dalla Xilella, ma a qualche chilometro di distanza vi è quello di Canosa di Puglia, che è stato definito e delimitato recentemente come infetto, insieme alle aree del Salento, di Monopoli e di Polignano. Dunque non sono consentite distrazioni di sorta e per questo il sindaco Giovanna Bruno ha emesso l'ordinanza 154, proprio con l'obiettivo di tenere i terreni a riparo da erbe infestanti, che invece alimentano le forme giovanili dell'insetto, vettore del batterio Xilella fastidiosa, responsabile del dissecamento rapido dell'olivo. L'ordinanza pone l'obbligo di queste buone pratiche non solo ai proprietari e ai conduttori di terreni agricoli, ma anche ai proprietari e gestori delle superfici agricole non coltivate, alle aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali e superfici demaniali posti sull'intero agro andriese. Inoltre, si legge ancora nell'ordinanza, atteso che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette a zone indenni può avvenire anche in modo passivo, attraverso indumenti, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, è raccomandabile nel passaggio da zone infette o delimitate a zone indenni, assicurarsi di non avere insetti sugli indumenti e sui propri mezzi di trasporto, nonché prevedere la copertura con teloni degli automezzi che trasportano i prodotti agricoli.